Buongiorno Buongiorno Io devo ritirare la mia macchina Le macchine? Ma quali macchine? Io ne ho una Ma no, le macchine stanno riposando Cosa dice? Venga, venga Vede, riposano Guardi che oggi è molto importante avere un'auto sempre efficiente Lei sa quanti chilometri fa ogni giorno A noi piace coccolarle Prego, andiamo avanti E poi che succede? No, niente, il completagliando ha fatto 30.000 chilometri Auguri Qui i freni Perfetti Qui controlliamo il perfetto funzionamento dell'aria condizionata Accensione dell'impianto Il filtro abitacolo Aria sempre pura e nessun odore sgradevole Le è capitato, no? Vede, con Midas vi garantiamo un servizio di qualità Che vi soddisfi in tutto e per tutto Ecco la sua auto Ma incredibile, è come nuovo Eh certo Ah, dimenticavo La porti al mare Per una vacanza Ma quale vacanza? È per il viaggio Ah, allora vada Vada, vada Vada Vada, vada Vada, vada Vada, vada Vada, vada Buongiorno amici di TV1 e benvenuti a questa edizione della nostra Rassegna Stampa. Oggi è sabato 14 giugno 2014, partiamo subito con la lettura delle principali notizie locali e nazionali. Partiamo dalla testata Il Centro, quindi spaccio a scuola i titoli, 5 indagati. L'Aquila, la polizia, droga pericolosa che causa malori. Approfondiremo la notizia appunto in L'Aquila. Mentre la foto notizia, 5 feriti nel maxitamponamento sull'autostrada. Dunque 5 automobilisti sono rimasti feriti in un maxitamponamento avvenuto ieri mattina sull'autostrada A25, tra i caselli di Avezzano e Magliano dei Marzi. 4 le autovetture coinvolte, oltre ad un furgone, pesanti le ripercussioni ovviamente per il traffico. Ma la situazione è tornata fortunatamente alla normalità dopo alcune ore. Mentre in Avezzano-Marzica c'è l'arresto bis per il pusher del parco giochi. E in L'Aquila la ricostruzione, il sindaco Cialente e del Corvo, alleati contro Aielli. Passiamo dunque subito alla lettura delle notizie che riguardano più da vicino la nostra città. E per quanto riguarda l'Aquila, spaccio davanti alle scuole, 5 giovani si trovano sotto inchiesta. Tra i tanti consumatori anche dei 14 anni. Centrale dello Smercio, una casa affittata da due indagati. Allarme della polizia che dice quella droga è pericolosa e alcuni ragazzi hanno avuto anche dei malori. Quindi la Procura della Repubblica ha chiuso le indagini a carico dei 5 giovani accusati di spacciare droga davanti al polo scolastico di Colle Sapone. Droga anche pericolosa a quanto pare, visto che si tratta di hashish, un tipo di marijuana definita così amnesia AIDS, che causa allucinazioni e perdita della memoria e breve blocco dell'attività cerebrale. Lo spaccio avveniva anche nei pressi di un bar della zona, del tutto estraneo i fatti, e in una vicina abitazione affittata dai ragazzi. Gli indagati, insomma, sono diversi ragazzi sulla ventina, e le indagini si sono rivelate molto complesse. Sono state fatte dalla squadra mobile, diretta da Maurilio Grasso. Ciò che sorprende, appunto, è che gli investigatori si siano trovati di fronte a una situazione alquanto allarmante. Infatti le cessioni sono ufficialmente, almeno ufficialmente, una quarantina, ma è probabilissimo che siano state, in verità, molte di più. E soprattutto è motivo di preoccupazione che tra i consumatori ci siano dei minorenni, ma più che di minorenni, soprattutto il fatto che possano esserci anche ragazzini di soli 14 anni. I luoghi dello spaccio erano diversi, non solo l'area di Colle Sapone, ma anche sotto i portici di San Bernardino, nell'area di Colle Maggio e nel Parco del Sole. Comunque le indagini sono iniziate a febbraio del 2014, sono state fatte riprese, videofotografiche e pedinamenti, soprattutto nei pressi del Polo, dove ci sono sei scuole superiori e una media, e alcuni ragazzi hanno accusato anche dei malori dopo il consumo delle sostanze. Passando alla politica, Del Corvo va da Legnini e dice fai chiudere l'ufficio. Quindi il presidente della provincia accusa Aielli e gli dice ci sta togliendo i dipendenti. Il nodo sono alcuni lavoratori spostati dal genio civile ad altri incarichi. Quindi Del Corvo contro Aielli, il presidente della provincia, ieri a Roma per incontrare il sottosegretario alla presidenza del consiglio, del consiglio Giovanni Legnini, ha ritirato la firma sull'intesa che ha sancito la nascita dell'ufficio speciale per la ricostruzione. Un atto che, come specificato dallo stesso Del Corvo, equivale alla richiesta di smantellamento dell'USRA. D'ora in poi, a ferma Del Corvo, siamo disposti a trattare solo con il governo. La bomba esplosa in seguito al trasferimento di parte del personale impiegato al genio civile ad altri uffici. Trasferimento deciso da Aielli senza comunicazione ufficiale alla provincia. Una situazione arrivata allo stremo in termini di giustizia sociale, dichiara Del Corvo. L'ufficio speciale dell'Aquila, istituito appunto dall'articolo 67 ter del decreto legge 83 del 2012, convertito in legge 134-2012, che ha tra i suoi compiti quello di fornire assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e promuovere la qualità della ricostruzione, richiene che il personale pagato con fondi cipe e impiegato al genio civile debba trattare solo le pratiche relative alla città dell'Aquila. Sorge a questo punto spontaneo chiedersi chi si occuperà di lavorare le pratiche dei cittadini di Barisciano e di tutti i comuni del cratere. E d'altro canto Moroni dice Aielli sta bloccando tutto, l'assessore si scaglia contro il direttore dell'USRA, che starebbe ritardando gli appalti per rifare alcune scuole. Quindi dice il Comune non è in cassa neppure un euro per la ristrutturazione delle scuole, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha disponibili 12 milioni di euro per i primi quattro progetti più altri 19 milioni. Soldi che ancora non eroga. Tra l'amministrazione comunale e il responsabile dell'USRA, Paola Aielli, è ormai scontro aperto. La polemica si riaccende sul patrimonio edilizio scolastico, errore di stampa, considerata una delle priorità di intervento, ma al momento è stato istruito un solo progetto esecutivo per la demolizione ricostruzionale della scuola primaria Mariele Ventre di Pettino. Il problema, spiega anche l'assessore Alfredo Moroni, che ha risposto in aula ad un'interrogazione del consigliere comunale Ettore Di Cesare, deriva dal fatto che l'Ufficio Speciale vuole entrare nel merito dei singoli dettagli dei progetti. Inizialmente si esprimeva solo sul progetto preliminare, mentre adesso ha esteso la sua vigilanza su decisioni di carattere tecnico che entrano nel merito di singoli interventi, pretendendo di dare il via libera definitivo sia al progetto esecutivo che al bando di gara. Moroni ricorda che nelle case dell'USRA sono fermi 12 milioni di euro destinati alla ricostruzione della scuola Mariele Ventre e a quelle di Coppito, Arischia e Sanzisto. Più altri 19 milioni di euro dei 54 stimati per la ristrutturazione di tutti gli edifici scolastici sono destinati al polo di Sassa e alla scuola Giovanni XXIII. Mentre per quanto riguarda la Tales a Legna, adessione totale di sciopero, quindi i 300 lavoratori davanti allo stabilimento dicono no alla Cassa Integrazione. La senatrice Pezzopane dice presenterò un'interrogazione parlamentare. Quindi adessione totale allo sciopero di 4 ore per ogni turno proclamato dai 300 dipendenti della Tales a Legna Space. I lavoratori hanno presidiato per tutta la mattinata i cancelli dello stabilimento, ribadendo la loro contrarietà alla decisione dell'azienda di ricorrere a 13 settimane di Cassa Integrazione Ordinaria a causa del mancato finanziamento del programma Cosmos Sky Med. Mentre tecnici e ingegneri protestavano, la procedura che coinvolge 80 persone è stata comunque attivata. La mobilitazione si allarga. Il 17, analoga iniziativa, verrà replicata nella sede di Roma, dove in Cassa finiscono 190 dipendenti. Il 26 giugno, su richiesta dei sindacati, si terrà un tavolo nazionale con i vertici aziendali e si attendono risposte anche dal governo e da Finmeccanica. Ieri i lavoratori aquilani si sono fermati per 4 ore all'inizio di ogni turno con un presidio ai cancelli e il blocco degli straordinari. L'adesione allo sciopero è stata totale, spiega il segretario regionale della FIOM, Alfredo Fegatelli, e anche i 15 addetti esterni hanno lasciato lo stabilimento. Nonostante la protesta, l'azienda ha fatto partire la procedura per l'attivazione della Cassa Integrazione, una decisione unilaterale di cui dovrà assumersi la responsabilità. Intanto per il 26 giugno è stato convocato un incontro a livello nazionale. Il ricorso all'ammortizzatore sociale interessa tra i siti di Roma, Milano e l'Aquila. Pensate, 300 unità, numeri importanti, 350 unità, numeri importanti che mettono a rischio l'intero settore spaziale italiano. Ed è per questo appunto che la senatrice del PD, Stefania Pezzopane, presenterà un'interrogazione parlamentare, oltre ad aver appunto incontrato ieri i lavoratori aquilani. E questa interrogazione parlamentare verterà appunto sulla problematica. Mentre, tornando più nel dettaglio sull'Aquila, la nostra storia e i consiglieri comunali che disertano la cerimonia per la liberazione. Quindi le iniziative snobbate dai rappresentanti dei cittadini, molti comunque i momenti significativi della giornata. Quindi un fungo atomico che si trasforma in un albero della rinascita è quello dello scultore di fama internazionale Nicola Bolla, realizzato per il settantesimo anniversario della liberazione dell'Aquila avvenuta il 13 giugno 1944. Il fungo che vuole rappresentare sia la distruzione della città colpita dal terremoto, ma anche la nuova vita, come suggerisce il materiale in cui è realizzato. È fatto di un albero ed è stato messo a dimora ieri mattina nell'area verde davanti alla questura. La cerimonia rappresenta il cuore delle celebrazioni per l'importante anniversario che sono poi continuate con la deposizione da parte del sindaco Massimo Cialente di una corona davanti alla lapide che ricorda la liberazione della città posta sulla facciata segnata dal terremoto di Palazzo Margherita, residenza municipale fino alla data del sisma. La deposizione si è svolta quasi in silenzio in una piazza deserta e puntellata. A seguito l'aula consigliare Tullio De Rubeis nella sede comunale di Villa Gioia ha ospitato l'esecuzione dell'ino di Mammeglia a cura dell'orchestra di fiati del liceo musicale diretta dal maestro Pierangelo Castellani subito dopo lo storico Walter Cavalieri ha tenuto un intervento sulla liberazione della città ed è stato presentato il volume percorso memoria natura a cura del professor David Adasher segretario dell'istituto abruzzese di storia della resistenza una cerimonia a cui hanno partecipato in pochi e soprattutto si è fatta sentire l'assenza dei consiglieri comunali come ha sottolineato lo stesso Cavalieri le celebrazioni sono terminate nel pomeriggio di ieri sempre nell'aula consigliare di Villa Gioia con la presentazione del libro Quel giorno di luce e calor a 70 anni dalla liberazione dell'Aquila il prima il durante e il dopo del 13 giugno 1944 di Enrico Centofanti ma passiamo appunto oltre Morì sui monti udienza concitata un test d'accusa dice la vittima era inesperta di escursioni ad alta quota mentre la difesa dice non è così si tratta quindi di un'udienza molto concitata quella riguardante il processo a carico dell'escursionista Paolo Antonio Scimmia 35 anni accusato di omicidio colposo per un presunto mancato obbligo di protezione verso il compagno di Cordata meno esperto Massimiliano Giusti che trovandosi solo a 2700 metri in piena bufera fu trovato morto mentre l'imputato si salvò accusa e difesa per via delle loro eccezioni e contestazioni alle risposte dei testimoni hanno baccagliato non poco ieri comunque è stato ascoltato un testimone Mario Giusti che secondo il giudice unico Giuseppe Grieco è uno dei pochi è uno dei pochi testimoni chiavi altro errore di stampa dovevo far parte di quella escursione sul Gran Sasso ha detto ma mi dissociai in quanto ero certo che il tempo sarebbe peggiorato e scelsi di farmi da parte il testimone che non è parente della vittima poi ricordato che Scimmia era abbastanza esperto mentre Giusti non aveva le capacità proprio per difetto per il percorso scusate Giusti non aveva le capacità proprio per difetto di per il percorso sul corno grande in precedenza era stata ascoltata la compagna del giovane deceduto Raffaella Baccante la quale precisando di essere inesperta di montagna ha asserito che la vittima aveva poca esperienza e che da poco Giusti aveva iniziato a frequentare la comitiva di escursionisti di maggiore esperienza rispetto alle sue conoscenze mentre passiamo ora alle notizie abruzzesi alle notizie della regione in generale perché appunto D'Alfonso è diventato sappiamo bene ormai da un paio di settimane il presidente della regione e quindi D'Alfonso sale al comando e dice i ricorsi penso all'aggiunta il primo atto una lettera ai 73 dirigenti per conoscere la situazione debitoria a scambio di promesse con Chiodi mi aspetto una collaborazione battagliera e dunque si spera che questa opposizione non diventi la solita bagarre mentre 44 anni di governatori e qui appunto un interessantissimo ritaglio di quelli che sono stati governatori della regione Abruzzo appunto dal dal 23 marzo 1972 mi pare fino ad oggi in sostanza appunto una quarantina di anni di facce e di governatori alcune delle quali ammetto che di non conoscere neanch'io perché ovviamente si tratta di governatori risalenti a decenni e decenni fa passiamo dunque al messaggero Abruzzo D'Alfonso dice una nuova legge elettorale il governatore si insedia a palazzo Silone blinda lolli come vice e cita mattucci e delfico anagrafe patrimoniale per i consiglieri webcam nelle riunioni e giunta parallela mentre su terra era un agricoltore ucciso da un fulmine davanti a sua moglie Morrodoro era vicino a un albero e stava raccogliendo gli ortaggi da vendere mentre la foto notizia appunto l'aquila nei guai 5 rampolli di famiglie benestanti e viene appunto ripresa sono censurati ovviamente i volti viene ripresa la foto dello spaccio della marijuana cosiddetta amnesia che sa di eroina vicino alle scuole di colle sapone quindi photoshop l'amnesia spacciata a scuola sull'aquila appunto viene riportata questa notizia dello spaccio di marijuana e passando oltre la notizia che appunto non era riportata sul centro almeno non era segnalata sul centro allarme acquazioni la città va di nuovo in tilt allagamenti e disagi soprattutto nella zona est ma appunto non è una novità che questa città diventi una groviera ogni volta che scende un po' più di pioggia mentre su Avezzano sul Mona i mondiali di calcio fanno scattare l'isola pedonale mentre anche qui viene riportata la notizia dell'incidente sull'A25 che costituiva tra l'altro la fotonotizia del centro poco fa e qui appunto cinque persone ferite è successo appunto sull'A25 tra Avezzano e Magliano De Marzi passando oltre andiamo sul messaggero nazionale dunque statali entrano 15.000 giovani prepensionamenti e part time fuori gli over 70 il premier Renzi dice parte il ricambio generazionale mobilità entro 50 chilometri dirigenti licenziabili premi legati al PIL dimezzati i permessi sindacali quindi Roma gli over 70 andranno in pensione non avranno più spazio nelle amministrazioni statali dove verranno invece aperte le porte d'ingresso di 15.000 giovani parte il ricambio generazionale ha commentato Matteo Renzi nella conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri nel pacchetto sulla pubblica amministrazione è prevista anche la mobilità entro i 50 chilometri i dirigenti saranno licenziabili e i loro premi verranno legati al PIL dimezzati anche i permessi sindacali mentre la fotonotizia che non poteva che riguardare ovviamente i mondiali di calcio quindi Italia il giorno dell'esordio Balottelli sfida l'Inghilterra quindi l'Italia entra in scena a mezzanotte e in paglio c'è già il prestigio Cesare Maldini in Francia nel 1998 cominciò con il Cile Trapattoni in Giappone nel 2002 con l'Equador Lippi in Germania nel 2006 con il Ghana e in Sudafrica nel 2010 con il Paraguay Cesare Prandelli invece sembra aver fretta e sfida le migliori Angeloni Cacace e Trani nello sport il commento appunto di Antonio Cabrini mentre appalti sottratti agli indagati ecco i superpoteri di Cantone l'anticorruzione potrà commissariare le aziende sospette quindi Roma nuovi poteri all'autorità anticorruzione ANAC guidata da Raffaele Cantone le imprese coinvolte in un appalto irregolare continueranno a lavorare ma saranno di fatto guidate da commissari nominati dall'autorità e avranno una contabilità ad hoc sarà anche obbligatorio segnalare all'ANAC ogni variante d'opera il governo inoltre deciso di assegnare a Cantone anche i poteri e il personale dell'attuale autorità che vigila sulle opere pubbliche ha nominato altri quattro componenti mentre l'arresto notizia importante dell'Utri in Italia finalmente stradato dal Libano è trasferito a Parma nel carcere di Rina di sicuro appunto si troveranno in buona compagnia sono le 7 del mattino quando il volo di linea AZ 827 di Alitalia atterra l'aeroporto di Fiumicino con a bordo il passeggero Marcello dell'Utri il Libano ha rimandato a casa l'ex senatore del PDL e poi l'appello dell'ex boss ai Casalesi pentitevi per noi ormai per noi è finita Napoli l'invito di tutti quelli che mi sono stati vicini hanno commesso questi reati assieme a me e a parlare con i magistrati lo ha detto l'ex capoclan dei Casalesi Antonio Iovine parlando di in videoconferenza al processo in corso a Santa Maria Capua Vetere ritengo che il clan dei Casalesi non esista più e ho riflettuto non aderendo più a questo tipo di vita la decisione l'ho maturata nel tempo della carcerazione ma anche prima di essere arrestato c'era una mia volontà di riflessione ho anche ho ancora detto Iovin ho ancora detto Iovin e da qualche settimana collaboratore di giustizia mentre sull'intesa con gli arabi Alitalia via libera al CDA a Etihad ora parte il confronto sugli esuberi quindi fumata bianca al termine di una riunione fiume ci sono volute nove ore di discussione ma alla fine il CDA di Alitalia ha approvato la proposta di Etihad Passiamo ora al Corriere della Sera appunto appalti e statali così si cambia corruzione più poteri a Cantone una donna all'Agenzia delle Entrate quindi il Consiglio dei Ministri ha messo appunto nuove regole per la pubblica amministrazione ha accresciuto i poteri del commissario anticorruzione Raffaele Cantone ma il Governo ha utilizzato la riunione anche per dare il via libera alle nuove nomine di Del Vertice per Consob Istat e Agenzia delle Entrate mentre appunto la fotonotizia che anche in questo caso non poteva ovviamente non riguardare i mondiali di calcio che tra l'altro quest'anno si svolgono in una delle nazioni più povere del mondo perché che se ne dica il Brasile è sicuramente un paese emergente ma al cui interno risiedono grandissimi contrasti e non siamo più nel 1980 quindi abbiamo uno spirito critico tale da farci apprezzare o meno il fatto che i mondiali possano svolgersi in Brasile ma torniamo appunto al giornale mondiali una grande Olanda demolisce la Spagna qui una foto di Ballottelli l'Italia che sogna con Ballottelli dunque clamoroso al mondiale brasiliano l'Olanda fa a pezzi i campioni del mondo della Spagna con uno scintillante 5 a 1 stasera alla mezzanotte italiana invece tocca all'Italia che nell'esordio contro gli inglesi si affida anzitutto all'estro di Mario Ballottelli e poi l'immancabile diciamo vignetta di Giannelli che oggi riguarda appunto lo scandalo del Mose e quindi Orsoni prende il largo e c'è la foto appunto del sindaco Orsoni che con una gondola va a largo di Venezia dunque lo si vede appunto solcare la laguna e dire com'è triste Venezia soltanto un anno dopo mentre per quanto riguarda le notizie dell'estero dall'estero al fronte tra i kurdi iracheni che preparano la resistenza strade deserte negozi chiusi si presenta così Mosul la città del nord dell'Iraq occupata dai sunniti jihadisti dell'Isis in periferia passa la linea del fronte con i peshmerga i guerrieri kurdi in attesa questi fanatici attaccheranno anche noi ma siamo pronti intanto Baghdad è nel caos con l'ayetollah alzistani che invita gli sciiti in fuga a resistere e Obama dice no a truppe sul terreno bene amici di tv1 vi ringrazio per averci seguito vi ricordo appunto che ho alle 13.45 c'è il notiziario di tv1 questa edizione della nostra rassegna stampa intanto finisce qui vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata e un buon weekend ciao ciao Grazie a tutti.